Vi presento, sono Piero Nuti, attore e qualche volta anche regista. Sono nato a Genova e sono sempre stato perduttamente innamorato di Torino, fin dalla mia prima giovinezza. Torino mi ha dato i Natali come artista, sono sempre stato qua. E mi sono sempre piaciuti molto i Granata, forza Toro! E mi sono sempre anche molto piaciuti quelli che hanno creduto fermamente nelle battaglie, come i Tori seduti. Ecco, fra pochi giorni sarà il mio compleanno. Allora, io vorrei chiedervi un regalo. Sì, tutti voi dovreste comprare questo cd, vedete? Ed è il senso unico, ed è dal titolo 1703. È stato realizzato in occasione dei 70 anni della tragedia di Superga. È in vendita in tutte le edicole. Il ricavato va a due ONLUS. La Fondazione per la ricerca sui tumori muscoloscheletrici e RARI e CUTE Project, ONLUS. Perché mi chiedi quanti anni ho? 91. Lo sanno tutti. Il ricavato va a fare la ricerca sui tumori.